Mattia, che significato ha per te questa cura? Beh, fondamentale, fondamentale. Speriamo che ti infiderate le risposte positiva. Tu speri di poterti sottoporre a questo tipo di trapianto? Sì, sì, assolutamente. Stai già facendo delle visite? Sì, 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 esatto. Tu hai questa malattia, diciamo, dalla nascita. Adesso ci sono i primi momenti in cui si intravede una speranza più concreta? Sì, sì, abbiamo già tanti anni, adesso qualcosa si muove. E speri che anche, diciamo, nella quotidianità, le cose possano cambiare? Sì, sì, speriamo di sì. Grazie.